Allora, siamo in diretta qui su Radio Sanremo in compagnia di una band che necessita un minimo di introduzione. Io vi riporto indietro di un po' di tempo. Noi qui siamo a Sanremo, siamo proprio nei giorni caldi del Festival di Sanremo e tornando indietro, nell'epoca, chiamiamola quella di Pippo Baudo. Ah sì, è vero! Erano gli anni 80, esattamente, era l'84. Voi avete avuto soltanto la sfortuna, forse, tra virgolette, di essere capitati in uno dei due festival in playback. Sì, è vero. Ricordo che era una situazione un po' particolare. E un Sanremo vinto da Albano e Romina perché siamo in Italia, abbiamo il filone con i vari Totocutugno, Peppino di Capri, eccetera. Però in quel Sanremo c'era anche una bella fetta di musica, di artisti alternativi che si stavano riproponendo. Io ricordo Garbo, Alberto Camerini, Enrico Ruggeri, ma anche tra la vostra categoria, nei giovani, Mario Castelnuovo, ma ce n'era una Maria, Rodolfo Banchelli. Li abbiamo incontrati un po' tutti. E poi c'era una band che si chiamava Canton. Che si chiama tuttora Canton. Che siete voi e che siete ancora qui. Allora, voi, tanto a me fa veramente piacere incontrarvi perché intanto sono stato uno di quelli che avevo acquistato. Avevi 45 giri? Sondambulismo, piccole maschere, ragazzi, le tracce, anzi, il microsolco era quello. Avete avuto questo incontro con Enrico Ruggeri, che lui tra l'altro non era neanche ancora Enrico Ruggeri, era l'ex Decibel, giusto? No, no, c'eravamo già perché penso che aveva già scritto per la Bertè e il Mare d'Inverno. Aveva scritto il Mare d'Inverno, produceva Diana Est, Tenax, queste cose, e poi sonnambulismo. E poi ci ha dato sonnambulismo e ci ha permesso di arrangiarlo come a noi più piaceva. Noi eravamo in piena new wave, in piena onda elettropop, Depeche Mode, eccetera, eccetera. Primi Depeche Mode perché... Eravate un po' in Depeche Mode italiani, no, ma è vero. Durante Depeche Mode. Esatto, un po' per il look, un po' per il tecno pop che facevate. E allora abbiamo portato a Sanremo questo pezzo, appunto sonnambulismo, arrangiato in una maniera molto poco sanremese, che per allora era un bel rischio anche discograficamente, però lì ci hanno appoggiati fortunatamente la casa discografica, anche tutti noi, e abbiamo arrangiato questo pezzo in maniera particolare, e poteva andare ad essere un flop tremendo, oppure un grande successo. Sai come quando le cose sono un po' estreme, o vanno molto bene o non vanno per niente. È andato molto bene. Ma poi tra l'altro Enrico Ruggeri in quegli anni era abbastanza schizofrenico dal punto di vista della composizione, perché componeva canzoni come Sonnambulismo, ma portava avanti anche il suo discorso da ex-punk, ma anche da chansonnier. Sì, soprattutto è lì che ha cominciato secondo me a fare... Ti ricordi, esatto. Sì, esatto. Con gli champagne molotov poi ha iniziato a riprendere in mano un po' il rock, quindi... Sì. Però questa canzone ha viaggiato alla grande. Questa canzone ha viaggiato alla grande e viaggia ancora, perché tantissima gente se la ricorda ancora. Adesso quando siamo dal vivo nei concerti la usiamo ovviamente come ultimo pezzo, e sono tutti lì a dire la verità che l'aspettano, perché sai com'è? Beh, i primi pezzi che fai anche al povero Mick Jagger chiedono sempre satisfaction alla fine, anche se hanno fatto un sacco di capolavori di altre cose bellissime. Però il primo pezzo è quello che fa l'imprinting sul pubblico, secondo me, e quello che poi resta automaticamente nell'immaginario collettivo del fan, oltre ad essere, per carità, assolutamente un bellissimo pezzo, no? La sentiamo in sottofondo, intanto ci culla durante questa chiacchierata. Oh, la canzone era forte, ma infatti Ruggeri può essere anche ripresa. L'ha fatta anche lui. L'ha messa nel suo album L'Isola dei Tesori, mi sembra che fosse. Però i canton, beh, avete avuto poi un momento di... I poveri canton... Che è successo? I poveri canton allora hanno fatto l'anno dopo Festival Bar con Please Don't Stay, che è un pezzo scritto da noi, che era andata molto molto bene, ci ha portato fino in Inghilterra. Lì abbiamo conosciuto un produttore inglese che si chiamava Pete Waterman, quello di Dead or Alive, di Banana Rama, di Rick Astley. Abbiamo fatto un disco con lui, l'abbiamo venduto alla Sony di allora, che era la CBS International, per il mercato inglese e americano. Quindi io a casa ho il vinilino stampato con scritto CBS, cioè non erano parole, non erano solo... Cioè la nostra casa di psicografia l'aveva venduto in licenza e purtroppo, proprio il giorno, pochi giorni prima dell'uscita dell'internazionale di Stay With Me, si chiamava questo pezzo, era la nostra casa di psicografia e allora ha chiuso le produzioni, ci hanno lasciati amaramente delusi, capito, senza possibilità di andare avanti. Avevamo un contratto che comunque quello restava in vigore non ci permetteva nemmeno di passare ad altri e questa cosa per dei ragazzini di vent'anni all'inizio e all'apice all'ora della carriera è una delusione cocentissima che ci ha fatti veramente spaventare ed allontanare dal mondo della musica ed è per quello che siamo stati lontani così tanto tempo. Abbiamo aspettato il 2010 per ricominciare a macinare. Parleremo anche di quello che avete rimacinato successivamente. Ma io ho incontrato parecchi artisti che mi hanno raccontato che in quel periodo, nello stesso periodo vostro, 85-86, si vede che c'era un virus, c'era qualcosa nell'aria, le case discografiche segavano le gambe all'improvviso. Allora, io da quando sono nel mondo della musica e della discografia che sento direi ma perché il mercato è in crisi. Adesso direi ma perché il mercato è in crisi e non si vende più. Però allora si vendeva, però si vede che il mercato era in crisi rispetto a quello che vendevano dieci anni prima. Che ne so. Fatto sia che molti hanno chiuso in quel periodo. È vero, è verissimo. Tra l'altro ricordo anche una versione, almeno io la posseggo tra le mie chicche, le mie reliquie, un 12 pollici in vinile della versione in inglese. Sì, quella è andata fino in mezzo, è andata benissimo, ho ottenuto il testo in inglese, l'avevo fatto io e l'abbiamo pubblicata come Maxi Single, come si usava allora, era andata in classifica in tutta Europa e mi ricordo Belgio, Olanda, e in Messico addirittura. Bene, una storia meravigliosa. Allora, poi nel 2016 è successo il miracolo, nel senso che, sai, noi cultori di un certo tipo di musica piazzata in un certo momento storico anche del tecno pop italiano siamo rimasti chiaramente stupefatti, è come se tornassero Diana Est, è come se tornassero personaggi che hanno davvero fatto, che hanno attraversato un pezzettino della storia della musica. Siete ritornati alla grande, prima con un album e poi con dei concerti. Sì, siamo, no, abbiamo cominciato con dei concerti, è dire la verità, anzi abbiamo cominciato nel 2010 per gioco l'idea era di ripartire, come ripartiamo? Abbiamo detto ripartiamo da sonnambulismo perché è stata la prima nostra allora nel 2010 abbiamo fatto una versione nuova di sonnambulismo risuonata, ricantata, non rimasterezzata, rifatta completamente con il suo video e l'abbiamo arrangiata e cantata come se la dovessimo presentare al giorno d'oggi o meglio nel 2010 a Sanremo, con i suoni che piacevano a noi e con quelle nuove influenze, eccetera. A noi è sempre piaciuto guardare avanti e non guardare indietro, anche allora sonnambulismo era una produzione molto all'avanguardia, quindi abbiamo cercato di riproporla il più modernamente possibile. Da lì sono poi invece partite una serie di concerti, alla gente abbiamo proposto qualche pezzo nuovo che avevamo composto nel frattempo dal vivo, abbiamo visto che sono piaciuti e queste cose ci hanno spronato a rimetterci e qui è dove entra entrano Alberto e Mauro che sono i nostri attuali componenti dei nuovi canton ma soprattutto Mauro che è un bambino. Ci stai arrivato perché i canton comunque a livello di formazione hanno subito un minimo di metamorfosi, eccetera. E da lì siamo partiti appunto con le registrazioni la scrittura di nuovi brani fino all'album completo che abbiamo pubblicato nel 2016 che ora ci saremo. Io da questo album ascolterei qualcosa dopodiché parleremo anche con i nuovi componenti e racconteremo un po' la storia di come si è evoluta la vostra band e il vostro discorso musicale. Cosa ascoltiamo da questo disco? Guarda, io da... abbiamo trattato tante canzoni però ce n'è una che secondo me è un pochino più avanti delle altre. Abbiamo fatto un bellissimo video girato ai Caraibi abbiamo fatto una collaborazione con un rapper spagnolo spagnolo, scusa dominicano in spagnolo lui faceva un featuring sul disco e è un pezzo molto funky con un rap in spagnolo dentro si chiama Più Sexy. Più Sexy allora Canton a Radio Sanremo. Radio Sanremo E dal disco dei Canton abbiamo ascoltato questo brano che ci riporta un po' indietro comunque in quello che era il vostro filone il vostro discorso musicale con questi nuovi con questo nuovo componente che insomma si è allineato alla vostra alla vostra idea musicale. Abbiamo altro che allineato è entrato di prepotentemente io e Alberto sono anni che collaboriamo chiede diciamo le colonne portali. Ecco perché abbiamo fatto un sacco di roba insieme fin dai tempi degli anni Ottanta e questo qua l'abbiamo trovato in una chiesa anzi l'ha trovato Alberto dillo tu. Io eh beh l'abbiamo trovato allora è capitato proprio per caso perché dove abitiamo noi c'è un sacerdote un po' particolare che ha fatto ha organizzato una messa reggae con tanto di impianto luci e impianto proprio audio c'era il gruppo il coro che cantava e chi più ne ha più ne metta e lì c'era un batterista che suonava e suonava in una maniera celestiale esagera ma trovare un batterista reggae in un contesto ecclesiastico è pazzesco infatti lui mi ha subito chiamato e dice guarda che quello lì secondo me può andare può fare il caso nostro possiamo prenderlo perché stavamo preparando dei concerti eccetera possiamo chiedere se ci sta e così è nato così l'abbiamo chiesto accettato e via e da lì abbiamo cominciato prima con i concerti poi lui è sempre stato presente in tutte le sessioni della nuova fase del canto poi c'è anche adesso in quest'ultimo progetto un tastierista che è anche produttore artistico assieme a noi e si chiama Davide Dal Piazzo che è diciamo un altro elemento quasi un membro occulto esatto che però è una gran bella parte anche lui nel progetto d'accordo che siamo anche in video però facciamo sentire anche la sua voce perché giustamente sì chiaramente mi metto qua lui bisogna dire che sa dove posizionarsi perché la sua la sua professione è fonico esatto ti ha detto mi metto qua se no non mi senti è pigro no 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 è questione di pigrizia perché come si vede dal video non ero provvisto il microfono tutto qui solo per questo motivo a me dice sempre mi raccomando per pericolare la capsula allora il disco l'album che avete prodotto per questa vostra reintrè è già è composto già da sei singoli mi sembra che l'ultimo sia il sesto aspetta parliamo del primo o di questo perché noi siamo sul secondo adesso dell'ultimo album allora adesso abbiamo un nuovo progetto che si chiama uno su tre ed è un album in divenire nel senso che abbiamo composto 15 canzoni circa le ho messe da parte e abbiamo deciso di produrle ognuna come un singolo invece che fare l'album completo singoli che si andranno a fiancare uno all'altro fino a comporre una raccolta e l'album alla fine abbiamo fatto così perché volevamo proprio concentrarci sull'idea dei singoli non perderci nell'idea del calderone album dove si mette di tutto ma trattare ogni canzone come se fosse l'unica che hai allora si chiama uno su tre il progetto che vuol dire un singolo ogni tre mesi noi ogni tre mesi scegliamo una canzone quella che ci sembra più adatta da proporre in quel momento e l'arrangiamo la produciamo la incidiamo però è bello perché tu ti dimentichi di tutti gli altri pezzi e lavori solo su quella e ti concentri che non è che oggi fai poi domani ne facciamo un pezzo di un'altra poi ritorniamo su questa perché dobbiamo portare avanti no ti concentri solo su quella e gli dai tutto il tempo che è necessario anche perché al giorno d'oggi i singoli sono molto 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 più importanti che non gli album e quindi partendo da quel concetto lì mi ha detto ok concentriamoci a fare dei super singoli e poi li metteremo insieme e questa cosa ci ha portato molto fortuna ci è piaciuto anche a livello proprio artistico perché è molto stimolante e molto bello e devo dire che oltretutto con i primi tre singoli di questo progetto che sono ancora estate voglia di te e sono solo abbiamo fatto più tre milioni di visualizzazioni youtube che insomma sono numeroni però sono bei numeri certo perché c'è da sempre da ricordare che siamo una band indipendente con una piccola etichetta indipendente non è che abbiamo alle spalle le major le major chiaro ma comunque è molto interessante l'idea dei singoli ultimamente è un discorso molto adottato da alcuni anche perché diciamo francamente da quando è sparito il vinile da quando esistono i cd gli album che contengono 75 minuti di musica quante volte ci finiscono dentro le canzoni per riempire il tempo il disco però la gente va sul computer va sulle piattaforme digitali e si scarica i due tre singoli che gli piacciono quindi allora con quel tanto dico vado e punto facciamo i singoli come fa a fare il Williams per dire te ne uno loro lavorano così in America parliamo un po' invece dei vostri concerti quell'altro chitarrista bravissimo che collabora con tutti anche adesso ha fuori un disco vabbè insomma adesso mi scappa il nome Luca Colombo no no un americano un inglese un inglese molto molto bravo che fa un singolo cambia cantante ogni volta però quello che ha fatto con Bruno Mars evitiamo questi vuoti intanto magari qualcuno ci pensa e poi ci viene in soccorso quindi un album o meglio un progetto che state presentando oltre che nel radio siete un po' in giro anche con delle esibizioni live non ancora purtroppo un po' purtroppo perché non è così facile nei periodi fuori dall'estate trovare delle serate da fare un po' perché visto che stava andando bene questo lavoro discografico abbiamo deciso di non lasciarlo perdere ma di concentrarci su quello e infatti siamo già in studio per il prossimo singolo che uscirà ad aprile e poi l'estate vi sfogherete e poi e poi lì avremo una pausa discografica probabilmente e speriamo di riuscire a mettere su una serie di concerti perché chiaramente è la parte più divertente la parte più bella beh è stare a una chiacchierata davvero divertente e molto interessante io chiuderei userei per usare questo termine bruttissimo però un vostro pezzo che poi è l'ultimo che è l'ultimo singolo da questo vostro secondo lavoro per questa re-entrée diciamo dei Canton un pezzo che si chiama Lentamente e che cosa racconta? c'è già un video se non sbaglio in giro c'è un video bellissimo io vi invito ad andare a vederlo perché secondo noi è uno dei più belli che abbiamo fatto andate su Google digitate Canton lentamente semplicemente così arrivate direttamente al video senza tanti problemi Lentamente è un brano che parla di passione parla della passione nei suoi lati sia positivi che negativi la passione che si impossessa lentamente di noi ma inesorabilmente passione però senza della quale la vita non sarebbe così saporita e così degna di essere vissuta quindi diciamo che di questo parla il brano bene quindi noi lo ascoltiamo io ringrazio i Canton per questa piacevolissima chiacchierata ragazzi vi aspettiamo ovviamente ancora qui a Radio Sanremo alla prima occasione e ascoltiamo lentamente